MA SUTTA L'EVOLO! MA CHE VELLO SONO! Salve a tutti ragazzi, benvenuti, io sono Adalbis io sono Ray e io sono Loc e ha vinto Resident Evil 4 come terzo gioco come terzo gioco che andiamo avanti purtroppo però lo giochiamo insieme in una piattaforma diversa abbiamo raggiunto lo stesso punto di salvataggio in cui eravamo nella play 2 ma siamo su Wii perchè è più giocabile diciamo la difficoltà è esperto, comandi un po' più approcciabili e comunque si vede anche meglio i colori sono decisamente meglio ma qual è un posto mirino così? vuoi mettere come l'altra volta su e giù cioè no volendo puoi fare così schiacci e dai anche però metti che non è emergenza ah ma non devi schiacciare un tasto no volendo schiacci anche un tasto però non devi schiacciare un tasto per andare in stance è come la play 2 però se vuoi puoi fai solo così è un po' lento perchè lui si fa un doppio tasto insieme però bene adesso gli spacchiamo il culo adesso si siamo arrivati fin qua off game off video e sei comunque morto 40 volte guarda sei già giallo già giallo è buono e adesso a residentivo ci giocherà Locke e basta non voglio avere responsabilità io quindi se muore cazzi suoi poi nessuno potrà dargli aiuto no di sicuro io non lo tocco più perchè il wii io non ci gioco al wii e dai frocci è proprio un froccio guarda come lo tiene ma sembra un froccio sempre no ma lo tiene perchè tu balli anche con la gambina lo so sembra che stai facendo le serie ma perchè è così alta la videocamera? è proprio in basso a darvis mo che cotto te ne frega a vero perchè si vede anche no 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 ha detto a darvis perchè è meglio vederà a casa e tanto apri io vado avanti io vado avanti ma non lo vedo in realtà non lo vedo adesso si adesso lo vedono e ci siamo allora qua è dell'ipad ma puoi anche non tagliarlo madonna ma questo lo taglio perchè ma non capiamo poi ma l'abbiamo già visto nell'altro video si? siamo morti nel villaggio abbiamo visto anche ma eravamo nel villaggio tu no però siamo morti nel villaggio siamo morti nel villaggio ah è vero e adesso vediamo se puoi spostare il mobile vediamo se puoi spostare il mobile ma non è in quella casa adesso voglio vedere però è una questione di tempo in realtà se non sbaglio devi resistere un tutto di tempo e Ada suona la campana ah è vero è vero no no non se ne sono ancora accorti eh questi stronzi l'ho fatto ho mirato cos'era? hai partito ma tu schiacci tu schiacci il telecomando Adal si che sono tipo dietro ma sta registrando il video possiamo verificare perchè quando fa cosi di solito è quando parte il video adesso c'era una zombie lambata aspetta aspetta allora se la mazzo di civiliati se ne accorgono proviamo andiamo 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 Katsuki Kuda Buda 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 vai vai chi è che diceva Buda 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 è Giorgio Giorgio ah ecco se ne saranno accorti secondo voi ma figurati hai sparato un colpo di pistola che cazzo ti sente? ma dov'è la casa che ti puoi barricare? c'è anche il fucile a pompa comunque sei anche giallo vuol dire che un colpo no due colpi è morto un colpo è morto era da ste parti comunque intanto non ce la fa su parte beh bene si arrapicano anche non mi ricordo chi fa arrapicare di bro eh ah scuoti scuoti hai perso tutta la vita scuotendo aspetta ma comunque sei bravo anche colui eh è vero abbina abbina il rosso si vabbè ma già sprecare secondo me non arriviamo fuori dal villaggio ma ovvio la serie vai 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 corri eh voi avete messo mi piace ma perchè vai in mezzo cazzi vostro non è che tu hai giocato due ore sto gioco vabbè ma non devi andare in mezzo comunque eh ormai non devi andare troppo tardi ma non devi andare in mezzo comunque ma non devi andare in mezzo comunque ma devi andare in mezzo comunque ma devi andare in mezzo sono tanti resistenza la granata ma chi stia le foto ma almeno fai un po' di casino nooo è utile chi se ne fotte eh prendi gli oggetti eh ma che ci vuoi tanto ne hai solo otto l'erba gialla ma se lo fai continuamente qua l'erba gialla fai gialla si fai il mega misture allora forse nella gialla qua ti aumenta la vita massima addirittura ah lo fai la mistura con quella verde forse aspetta però lì cazzo fai i cecchi colorati chi se ne fotte che pensai colorati e questa è la casa di Barry ah si perchè c'è l'animazione c'è l'animazione ma qui sposti anche i mobili si 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 e si organizzano qua i zombie non sono zombie sono persone eh sono spagnoli se tu non hai in spagna tra una siesta e l'altra travolta no c'è anche la motosega quello con la motosega era buo sgravo mmm ma vedi che lo fa pure nel video cioè proprio come delle cose eh si non è una cosa che mi fanno te no no lo fai tu adesso guarda son of son of son of vabbè questo lo sposti tu ah perchè c'è fu scritto spingere ok è a posto eeeh poi se è a posto puoi accomodarti eh no fate un tè ci sono diversi piccoli vai sotto a prendere il pompa si si mille mo ok ok vabbè così stai easy scuola eh no ma entra un po' eh si c'è pompaaa la doppietta ma è proprio forte la doppietta eh beh in tutti eseritivo eh lo so proprio eeeh c'erano pompa c'erano pompa sgravi dopo eh ricordi che qua spendevi le armi di livello superiore proprio c'erano tipo perché no c'erano tante pistole tante scusami ma no è solo di mi ha dato attraverso un attimo la saliva allora no bravo volevano eh figli di puttana oh cazzo e la no no che cazzo hai fatto le munizioni e lì non se ne fotte anche dei vetri da un metro dalla ma aspetta aspetta ma guarda che sto gioco con quelle munizioni ce n'erano eh comunque anche difficile secondo me ma dai hai già dieci colpi di pompa a ben tre e io regalico oh cazzo regalico ho morto sei un pelo di vita un pelo di vita un pelo di vita c'è la motosega ti shotta comunque si vai ti shotta comunque è vero è tipo stile ma io sono sotto tanto quando è che suona la cazzo di campana adesso adesso no no sei tu che stai eh eh nooo eh si invece eh ma guarda adesso non abbiamo più niente eh vabbè falli venire sotto falli venire non ti devi far più toccare eh eh no è sotto quello che la motosega è un fottuto adesso non puoi ammazzarlo non puoi ammazzarlo non puoi ammazzarlo no cazzo una granata ma non puoi dare un colpo di pompa è un nomino no 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 ma è fortissimo è poco forte è quello con la motosega si finca ma ti sei messo nell'angolo o poco nell'angolo poi c'è scritto ah ti puoi far qualcosa forse gli dai un colpo no esamina esamina ti vai no ma è un nomino con la motosega cazzo va va ancora vai forse magari non attira neanche la gente non è per cazzo che non fa il rumore lui prima è andato in mezzo alla piazza è andato in mezzo alla piazza è andato in mezzo alla piazza a fare il mercato eh vende si oi oh cazzo si sa l'ha sentito vieni qua va via l'arbetta gialla laggiù e ti fai un mega mistura magari ti alza anche la vita non mi ricordo cosa c'è andato oh cazzo e vai in mezzo alla piazza fare il giro magari quello è tipo quel forcone eh ma devi fare il giro non serve niente perché ormai ti hanno visto fai il giro e ti incuri da solo eh non lo so mi puoi andati in mezzo ma sei un coglione ma ne hai otto sotto ne hai ma no ma non arrivano fidati voi li deve morire sennò per sopra davanti avrei avuto i problemi ho avuto i problemi ma hai ammazzato sicuro un colpo volevo che cadesse giù non lo cadesse giù allora no ma loro fanno uguale leggera 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 lui passa dall'altro lato ok ti equipi un pompa ti puoi pompa devo sparare perché si fa male si ferisce eh si a sto punto devi star fuori adesso vedi abbattere bravo abbattere bravo non puoi saltar giù abbatti anche l'altra che c'è un'altra ma perchè si sprecchi un pompa è dentro quello con la motosega abbattere si è entrato dentro l'ho visto ho visto col sacchetto in testa fidati guarda lì è vero che io ho anche detto guarda che è dentro eh ma dove c'è andavo tanto è di la ma siamo sicuri che bisogna barriccharsi lì usale tutte su è vero che la rossa non può usarla solo l'aveva già usata guarda signorina ma perchè è disarmata bravo tu non vuoi inferirla perché sei un supereroe gentil'uomo ma perché sei come batman non gli uccide nessuno è come Arrow adesso che fa schifo perché non ammazza più nessuno tipo non che prima fosse un capolavoro fa più schifo per quello cioè ma perchè hai tutti i frecci sei un figlio no tu spari la spalla spari la gamba si ho la pistola però tinga la pistola perché gli da fastidio ha ammazzato 3.000 persone nella sua vita adesso un po' più ammazzata adesso no aspetta eh abbina poi potrei spoilerare non spoilerare cioè almeno noi non l'abbiamo ancora visto voi l'avete perché hai già visto sono passato del tempo ma perchè abbini tutto allora prima avete avuto il cazzo che non l'ho fatto tutti quelli hai messo tre colori ma fatemi far commentare alla gente tutti quelli che guardano Arrow commentano io guardo ah ah non arriviamo neanche a barricarci questo hashtag della puntata ah comunque non ha alzato la vita ecco ecco stai lì è camper la crista è un altro signore ma uccidilo l'altro signore ha rimesso sulla scala occhio che ci vuole ah devi seguire quello con la motosega allora motosega motosega ma perchè sprechi tutto oh cazzo madonna ma guarda quanti sono è scappato aveva un colpo di pompa in mezzo al mucchio scappa adesso la è vero è vero è vero ma la motosega corre veloce ne 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 allora aspetta ogni volta sempre ma adesso non sprecare sempre le cure perchè 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 bravo ah non puoi non puoi non puoi no non puoi ricaricare giustamente perchè è in dipinto tanto fai così si ciac 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 ma tu corri corri ma non corre la moto ah dai stai facendo il giro va bene che immune mentre fai quelle cose guarda vai addosso si 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 madonna proprio corrono dritto vero se non la motosega guarda che ti faccio fare l'attacco e che sono l'impavido non ho ancora una paura di niente forse ti ammazzi il pollo finisce prima oh cazzo ti sei messo eh guarda 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 qual è ma sei andato sulla scala io? oh un diventore dove di prima eh ma sei tutti sotto adesso vai e butta giù la scala guarda più sotto c'è un signore anche qua ma secondo me qualcuno te li ammazza alle spalle ti tirano alle spalle ecco vai in mezzo alla mischia era il signor carpentiere stava lavorando cazzo scusatemi io stavo mettendo a posto il tetto scusate usiamo ste granate ma cosa cazzo dici io lo dico da sei ore proviamo c'è la massa vuoi vedere che ammazzi quello con la motosega arrivare no non devi uccidere insomma vedi ammazzare tot nemici comunque si un po' di nemici girati di colpo e butta una granata ma se sali a cazzo a cazzo ma sono mille ciavoli ma se sali la scala no lì sei sulla torre vai indietro lancia va indietro lancia e forse li suonate la campana indietro lancia adesso vai vai ma dove cazzo lo butti è il mirino ma no ma è un casino e vai brava Ada brava Ada che bastava andare dritto comunque e non urliamo comunque ah no non è Ada non è Ada non è Ada si sono arrivati più nemici in realtà infatti si è chiuso pompa 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 veloce gravata mica lo sprechiamole 20 granate dai dai pompa mica avessi un colpo al biau carica girati che tanto hai buttato la granata sono morti tutti eh da lontano da lontano da lontano fa sì siamo a me quello lì devi ammazzarlo quel figlio di puttana si ma da lontano lo ammazzano non gli sto vicino non è forte e mira più alla pancia allora perchè i proiettili sono di più in testa non lo vengono eh ah figlio di teoria oh no no stronzo cazzo di potere salvare le emulizioni vai che si rialza basta basta boh finiti i proiettili ma più niente spari in testa eh con il mirino dovrebbe essere facile sparare in testa eh aspetta 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 ma dove cazzo di puntana eh vai addosso vai addosso ma cioè ma ti sei proprio girato e gli sei andato ma perchè gli sei andato addosso puntana addosso ero un mirino piccolo cieco o scappavo o scappavo eh ma tu dovevi attirarlo facevi andare una cosa vuota e poi facevi giro eh poi mi scopavo tua madre eh ma che bello che era ma che bello che era ma che bello che era anche immune allo stun mentre attacco comunque sai cos'è bello nei giochi andare avanti fluidi 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 vero che dici vabbè ma adesso ragazzi abbiamo un video avete un video al giorno si o no avete il video al giorno avete il video al giorno una serie in cui ci blocchiamo ci deve essere perchè adesso in dark souls andremo avanti e questo sono le ultime parole come hai fatto un cazzo easy ma è già rosso sai quale il problema è che è difficile questo gioco in estremo perchè non è estremo vi ripeto la difficoltà che sblocchi dopo che hai finito il gioco si presume che tu abbia una manualità fresca del gioco ma ce l'ha ce l'ha Locke si però con lui non hai scuse devo dire devi comunque averla metti l'herbette insieme e montati sta vita montatela è uguale prenderemo da anni abbina abbina usala adesso questa è la volta buona lì in messico ognuno è a casa di tutti finisci le munizioni adesso un cazzo è lì è lì ma secondo me è una granata secondo me lo uccidi proprio facile come prima gli butti una granata sotto il cazzo di piedi e gli spari finchè guarda finchè non ti guarda finchè non ti guarda ma perchè sono dei gatti di pantere tipo eh ma non c'è però vabbè vabbè tre ominidi eccola vedi che parte di quando ammazzandoli sei proprio un pezzo di merda no ma cosa dici ammazzarli nooo arrivada arrivada ma guardalo ma perchè devo guardarlo cos'è no se ne hai preso guarda se sta bene no sei preoccupato guarda che sei un po' preoccupato che non ci faccia male non lo so io girati secondo me ecco è morto forse ma non sfrecare non sfrecare il pompa perchè devi ammazzare e carica sta la eh benissimo io nooo hai non hai vita lo vedo è morto è morto carica la vita mamma mia allora quando sei nel panico MENU CARICA MENU 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 eri poi morto quando sai se non lo facevi non ti ho fatto un cazzo io vado su vediamo cosa succede perchè sta ancora in recovery la storia è quella la storia è quella se tu non ti ricordi un cazzo perchè tu eri convinto di una cosa era già sbagliata quindi magari è così visto tu eri convinto di una cosa era già sbagliata tu non puoi essere convinto di una cosa perchè è già sbagliata proietta e lo prende ah pompa pompa hai 8 poletti di pompa mettili su e stai lì e aspettali che vengono su per una cazzata lì sei proprio safe c'è solo un'entrata si beh ma se arriva quella con la motosega sei fottuto è morto con la motosega anche io io l'ho visto così io l'ho visto guarda che non vengono sopra oh cazzo cos'è ti buttano il cazzo di fuoco ma le potele volo sono ma che belli sono ma no ma no mai sai cosa lo staniamo quel figlio di puttana ma in troppo la figlia di troia si è fattuto lì ma che cazzo ma che cazzo tira non puoi buttarti giù adesso lo stai oh mio ma che belli sono ma stai lì aspetta no stai lì perchè muori c'è e indietro c'è nel cunicolo fai indietro god è這樣 col coltello è vero vivo ma cosa facciamo li staniamo con i figli di puttana dai possiamo ciao oh 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 Musica